Il Consiglio Comunale Abbiamo raggiunto un traguardo secondo noi importante che è la sospensione del servizio e la successiva rimodulazione. Adesso noi ci auguriamo che l'amministrazione dia seguito a questo atto importante approvato in Consiglio Comunale. C'è stato anche un incontro con i commercianti che ringraziamo, che hanno incontrato l'amministrazione, hanno incontrato anche noi operatori della politica per chiedere delle modifiche sostanziali per i clienti, per i residenti, per gli operatori economico-sociali che insistono sulla città, che non sono soltanto bagheresi, perché non dobbiamo dimenticare che Bagheria ovviamente è il collegamento di molti paesi che vivono intorno al nostro territorio. Oggi il Consiglio è stato molto proficuo, a parte qualche nervosismo da parte dell'amministrazione poi siamo riusciti a trovare una sintesi. Ci auguriamo che l'amministrazione per i prossimi appuntamenti importanti che dovranno coinvolgere la cittadinanza non prenda delle scelte e non faccia delle scelte unilaterali. Questa città va amministrata collegandosi con la città, collegandosi con gli operatori economici, collegandosi con i rappresentanti di categoria, collegandosi con i cittadini. Purtroppo in questi ultimi anni abbiamo assistito a delle scelte fatte dall'amministrazione senza discutere con la città. Noi oggi abbiamo detto al Sindaco di mettere da parte qualunque schieramento politico e appartenenza. Vi ho detto che prioritariamente ci sta a cuore la città e siamo convinti che sia a cuore la città anche a lui e al Movimento 5 Stelle. Per cui al di là delle bandiere, quando ci sono scelte importanti bisogna dialogare. Ci auguriamo adesso, dato che oggi sono stati votati in Consiglio Comunale delle emozioni che chiedono sostanzialmente intanto la sospensione e poi la successiva rimodulazione, che il Sindaco dia seguito a questa volontà popolare, perché non è soltanto la volontà della politica ma anche la volontà dei cittadini. Adesso, nei prossimi giorni, vedremo che cosa succederà. Ci riteniamo soddisfatti oggi di questo Consiglio Comunale nel quale si è approvata la mozione urgente che avevamo chiesto con forza rispetto alla sospensione immediata delle strisce blu. È stata approvata e quindi ora il Sindaco deve essere conseguenziale a quello che il Consiglio ha chiesto, a quello che la città chiede. Sospendere immediatamente le strisce blu, così come sono illegali, e rimodulare, rivedere questo tipo di impostazione da un punto di vista sicuramente legale, prima di tutto. E dopo possiamo anche vedere di concertare il tutto con i commercianti, con i cittadini, per dare alla città un vero e proprio servizio. Tutto questo è stato grazie ai cittadini, a tutti quei cittadini attivi che ci hanno dato una mano nella raccolta delle firme e che hanno voluto con forza sostenere questa nostra battaglia perché hanno ritenuto che le strisce blu, così come sono state pensate e rimodulate e imposte alla città, erano sicuramente non razionali ma soprattutto contro legge. Grazie a tutti.